Ciao ragazzi e ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video io sono molto molto veramente emozionata di fare questo video perché vi devo aggiornare un po' sulle novità un po' di novità nella mia vita se mi seguite su Instagram già avete visto che c'è un clima di novità vi ho detto nuovi progetti, vi ho detto nuove cose e allora in pratica in questo periodo io sapete che avevo dei progetti, delle cose e mi è capitata una cosa stupenda perché in pratica ho coronato il mio grande sogno perché pochi giorni fa proprio ho firmato un contratto per una cosa molto molto grande veramente posso dire il sogno dei sogni, la cosa più grande che volevo fare e finalmente ci sono riuscita ovviamente sapete che dietro tutte le cose quando voi le vedete c'è sempre tanto lavoro quindi ovviamente noi stiamo lavorando tantissimo a questa cosa e avverrà nei prossimi mesi ma vorrevo festeggiare con voi veramente questo momento perché io sono troppo troppo veramente troppo felice di questa nuova cosa che mamma mia ragazza è troppo bello è una cosa stupenda e sono felicissima oltre a questa grandissima cosa ci sono anche altri nuovi progetti perché ho detto le cose sono più di una in realtà nell'ultimo periodo ho avuto un sacco di nuove idee ma anche un sacco di nuove proposte quindi in realtà c'è questa grandissima cosa ma ci sono anche altre cose che avverranno e non vedo l'ora non mi farò aspettare tanto tempo perché considerate che mancano pochissimi mesi alla realizzazione di questo mio grandissimo sogno e non vi devo l'ora davvero di potervi dire ragazze ce l'ho fatta ho firmato ci sarà questa cosa ci sarà quindi sono troppo felice poi in occasione di tutte queste novità abbiamo anche scattato delle nuove foto per il mio sito quindi abbiamo fatto proprio un restyling un nuovo look di caritashop.com e proprio da questa cosa poi è nato insomma non posso dirvi altro però sapete quando io vi dico il destino proprio da una cosa succedono altre proprio grazie a questo restyling che abbiamo fatto del nuovo sito e che abbiamo lanciato oggi è collegato a tutti gli altri progetti e tutte le altre novità quindi non vedo l'ora di questa cosa queste nuove foto veramente sono bellissime che abbiamo scattato e anche guardando queste foto potete capire potete farvi un'idea di quali sono questi miei nuovi progetti quindi veramente io sono troppo troppo emozionata comunque venite su caritashop.com a vedere se vi piace il nuovo sito le nuove foto ci abbiamo messo tanto tanto impegno tanto cuore ragazze veramente abbiamo scattato tutto il giorno per fare quelle foto c'è tanto lavoro dietro e ci siamo anche divertiti perché io dico sempre fai il lavoro che ami e non lavorerai un giorno della tua vita però ho la fortuna di lavorare con persone che anche lo fanno con passione e infatti ringrazio pubblicamente Armando La Pietra che come sapete vabbè ormai lo conoscete benissimo cioè per me è fantastico lui e oltre a essere il fotografo anche per me è anche un grafico un designer mi dà consigli tutto quindi lui per me è veramente il top quindi seguitelo ovviamente su Instagram e venite a fargli i complimenti per le foto e ringrazio anche Maria D'Ambro che è una truccatrice bravissima che ha curato appunto il mio look e il mio trucco e i miei capelli per lo shooting quindi venite su caritashop.com perché c'è anche un'altra sorpresa per voi ovviamente non potevo lasciarvi a bocca asciutta quindi in occasione del restile di questo nuovo look nuovo sito ho creato un codice sconto una super promo del 20% su tutto il sito ed è una cosa che mi chiedevate sempre carità ma quando metti i saldi quando ci saranno diciamo che abbiamo anticipato i saldi mettendo una super promo quindi ragazze senza spesa minima potete prendere quello che volete tutto scontato al 20% con il codice new shop 20 ve lo scrivo anche qua quindi approfittate per fare scorta venite a vedere perché abbiamo inserito anche tanti prodotti nuovi e poi ci sono i solari ci sono tantissime cose che sicuramente sicuramente vi conviene fare scorta perché poi lo sapete le cose vanno a ruba tanti prodotti anche anticellulite per la skin care lo sapete quindi tutto tutto scontato anche i gioielli tutto dunque ragazze visto che in tantissimi mi chiedete sempre consigli sui capelli che anche a voi praticamente piace questo effetto volume però senza effetto crispo io devo dirvi che nell'ultimo periodo sto curando un sacco i capelli ci ho trovato proprio i prodotti adatti e mi stanno venendo voluminosi belli morbidi lucenti però senza effetto crispo vi giuro sono innamorata dei miei capelli di nuovo perché dopo la gravidanza il parto si erano un po' rovinati adesso sono bellissimi e mi sto trovando troppo troppo bene con questa combo che vi volevo consigliare faccio prima lo scrub al cuo capelluto non so se è una cosa che voi fate ma se non fate lo dovete fare ragazze perché veramente eccolo qua ve lo faccio vedere da vicino scrub al cuo capelluto poi vi metto il link in box informazione questo è un prodotto che costa pochissimo ragazze ma credetemi vi cambia proprio i capelli in pratica questo lo utilizzo una volta a settimana lo massaggio e proprio arriva un sacco più nutrimento e vulvi vengono proprio belli puliti lucenti ve lo straconsiglio considerate che su tutti i prodotti c'è il 20% di sconto quindi questo già costa poco poi col 20% ancora di meno quindi provatelo poi dopo lo scrub io faccio ho trovato questo shampoo che è lo shampoo volumizzante che mi dà un sacco di volume e quindi i capelli sembrano tantissimi vengono voluminosi belli morbidi mi piace un sacco e questa è la nuova linea che abbiamo inserito su caritashop.com di Giada Cosmetics tutti i prodotti naturali biologici e ve lo faccio vedere perché anche questo qua ovviamente lo potete avere scontato col codice del 20% quindi prendetelo anche questi costano poco ma sono veramente veramente ottimi tutto biologico dopo lo shampoo ho applicato la maschera considerate che l'ho lavata proprio stamattina i capelli che mi sono venuti bellissimi ho applicato la maschera questa è la maschera ristrutturante ed è buonissima perché la lascio in posa bastano 3-4 minuti veramente sono morbidissimi i capelli e dopo applico il siero la spirulina tutta la linea la spirulina ragazze è favolosa questo è sia un termoprotettore sia rinforzante comunque vi metto i link di tutti i prodotti in box informazione anche per il viso ragazze ho una routine in particolare vi voglio consigliare la linea la guava anche questa se non l'avete provata approfittate adesso tutta la linea guava di Dr. Organic che la potete avere scontata su caritashop.com questa è buonissima l'ho presa perché è ottima contro le imperfezioni e le impurità consigliata anche per pelle miste e grassa è buonissima ricca di vitamina C elimina proprio le macchiette le imperfezioni e appunto questa è una maschera in gel poi c'è la crema c'è il contorno c'è il gel detergente viso tutta la linea dunque ve la metto linkata nel box informazione è veramente buona buon profumo proprio di esotico buonissimo poi ci sono i nuovi sieri della saponaria che questi costano una stronzata ma sono così buoni questi sono attivi puri trovate questo qua che è fitoretinolo che è buonissimo perché è un attivo proprio un booster per il viso che vi dà proprio effetto rimpolpante luminosità perfezione il viso ed è veramente veramente ottimo ricco di vitamina A che veramente favorisce la sintesi del collagene che sapete che è una delle sostanze principali della nostra pelle comunque questi sieri li trovate anche all'acido erroneco al collagene vari siero antimacchie e sono tutti super economici ma super potenti questo dovrebbe costare non so 100 euro perché è veramente una bomba quindi ragazzi prendeteli soprattutto adesso al 20% se le pagate pochissimi euro ma sono fenomenali poi un altro prodotto che vi voglio straconsigliare è il siero cerbiottina questo siero veramente vi aiuta tantissimo è uno dei sieri miei preferiti perché a differenza degli altri che sono a base oleosa questo no quindi non vi fa l'effetto che vi appiccica nulla è un siero ricco di estratti che vanno a contrastare la caduta cioè vanno a migliorare la crescita questi contiene estratti che favoriscono anche la crescita dei capelli quindi fa crescere proprio più ciglie e fa allungare quelle che avete è veramente spettacolare si chiama cerbiottina è bellissimo poi perché si applica vi faccio vedere tipo un eyeliner è buonissimo ragazzi io lo metto sia sulle ciglia che sulle sopracciglia veramente ve lo straconsiglio e poi anche di Giada Cosmetics abbiamo tutta la linea per il viso con le maschere i tonici di scrub questo ad esempio è un tonico che vi straconsiglio soprattutto se avete il problema delle macchie perché questo è buonissimo è ricco di vitamina C acido mandelico ha un effetto perfezionato quindi elimina l'impurità le imperfezioni e illumina tantissimo il viso io ho anche questa linea qua di cui ci sono maschere scrub detergente crema c'è tutto ve la straconsiglio perché è proprio adatta all'estate ed è una novità stupenda è veramente mi migliora il viso come sapete ragazzi vado orgogliosa di questi prodotti perché sul mio shop online è come se fosse il mio figlio veramente inserisco solo i miei prodotti preferiti in assoluto e quindi poi li provo sempre prima su di me quindi vedere che questi risultati fantastici che ho sulla pelle sui capelli mi riempie troppo di gioia quindi ve li consiglio proprio come se non so li consigliassi a mia mamma poi anche nel mio quotidiano anche alle mie amiche li consiglio quindi veramente col cuore comunque il codice new shop 20 è valido su tutto il sito quindi qualsiasi cosa volete prendere avete lo sconto e io questi ve li consiglio però ovviamente qualsiasi cosa è top ed è approvato come dico sempre tutti i prodotti che inserisco sul mio shop online penso quella sia la mia forza sono tutti provati approvati da me e perché se non mi piacciono se non li approvo non li inserisco quindi io sono principalmente prima che un'impresidice sono una una estimatrice proprio sapete come chi chi vende il vino e ama il vino e lo beve così sono io uguale ragazzi sono troppo troppo felice anche perché vi devo dire la verità oltre a questo ci sono anche delle novità a livello personale e anche se sono molto scaramantica non dico mai le cose prima però questo ve lo posso ve lo posso dire e poi lo vedrete perché sicuramente vi faremo un video un altro grande progetto un altro grande sogno ma penso questo sia veramente immenso dopo Daniel perché chi è mamma lo sa il primo desiderio il sogno che si è avverato è con lui tutto il resto si è bellissimo ma non vale quanto lui poi sta iniziando a fare i primi passi sta alzando in piedi vabbè se mi seguite su Instagram vedrete tutte le sue storie e altre due cose anzi allora la prima è che io ho deciso di mostrarvi un po' di più Daniela anche qui nei video sapete che ero un po' restia prima quindi infatti vi dico seguitemi su Instagram perché nelle storie nelle foto lo mostro sempre potete vedere che sta iniziando ad alzarsi e quindi dal prossimo video ho deciso di farlo proprio assieme a lui quindi vi dico già ci sarà lunedì il video quindi segnatelo qua su YouTube e altre due novità vi stavo dicendo la casa noi finalmente ragazzi abbiamo coronato il nostro sogno della casa ma ancora non ve la posso farvi dire perché ovviamente dobbiamo fare lavori però vi posso dire che noi ce la siamo in sta brutta durante il coronavirus perché è stato tutto bloccato quindi veramente abbiamo visto i nostri soldi andare in fumo però non abbiamo nulla perché ovviamente essendo tutto bloccato anche le aziende tutto veramente le imprese tutto bloccato quindi appena metteremo piede vi prometto che vi farò un video e comunque sicuramente prima delle storie infatti seguitemi su Instagram ragazze Carlita Dolce la vedete tutto in anteprima anche se non avete Instagram fatevelo perché veramente è importantissimo per me vi posso dare news proprio nell'immediato quindi faremo un bel brindisi nella nuova casa non vedo l'ora però per andare ad abitarci là ci vorrò un pochino di tempo in più perché stiamo comunque stiamo progettando tutti i nuovi lavori anzi se avete da consigliarmi qualche architetto bravo qualche interior design qualcuno che si occupa proprio di ristrutturare dall'A alla Z consigliatemelo perché voglio fare proprio una super casa consigliatemi che è una villa a due piane stupenda con piscina quindi dobbiamo fare proprio le cose in grande quindi se avete qualche consiglio però consigliatemi solo top lo sapete ho solo top e poi terza cosa ragazze il battesimo di Daniel finalmente dopo il lockdown ce l'abbiamo fatta non sapete io quanto ero amareggiata perché praticamente lui doveva fare il battesimo aprile ed è saltato fortunatamente adesso glielo faremo glielo faremo a luglio sono troppo felice anche se lui è un po' grandicello però sono felice così faremo anche una festa con parenti amici e sicuramente vi porterò con me attraverso le storie e un video youtube perché vi devo presentare la mia event planner che appunto che si sta occupando di tutto organizzare tutta la festa che è bravissima e la location dove lo faremo è stupenda quindi seguitemi su instagram e vedrete tutto e niente ragazzi sono troppo troppo felice di queste novità perché veramente una dopo l'altra mi stanno succedendo un sacco di cose belle quindi ovviamente io devo dire grazie a voi perché ci siete sempre mi supportate sempre e veramente siete per me siete speciali siete veramente tutto e a volte anche se ho paura delle cose che sto affrontando dico ma chissà se piacerà questa cosa mi faccio mille dubbi però poi voi mi date sempre un sacco di supporto quindi io vi ringrazio per i vostri commenti per i vostri like e fatemi sapere se le foto del sito vi piacciono perché veramente a me piacciono tantissimo a noi piacciono tantissimo siamo molto fiere ed orgogliosi e fatemi sapere anche se avete idea di questi nuovi progetti ma penso che lo sapete almeno uno lo sapete quello più grande di tutti però vi dico che saranno dei mesi belli belli saranno dei mesi belli intensi perché comunque dovremo lavorare a nuove cose e niente ragazzi sono felicissima veramente veramente perché grazie a voi spero che siate fieri di me di quello che sto facendo e fatemi sapere nei commenti se vi piacciono le foto e vi aspetto su caritashop.com il codice newshop20 vale per una settimana quindi approfittate perché appunto per tutta la settimana ditelo anche alle vostre amiche i vostri parenti insomma perché so che comunque quando ci sono i saldi uno magari compra qualcosa in più e ne approfitta e magari potete fare scorta anche per i prodotti che vi servono per la stagione io vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video ci vediamo su instagram per commentare anche le foto importantissimo venite perché le pubblicherò alcune anche su instagram e ci vediamo qui su youtube lunedì mi raccomando con Daniel non vedo l'ora anche per questo sono un po' ansiosa vi dico la verità perché spero che che vada tutto bene insomma perché io l'ho voluto tutelare tantissimo in questo periodo però vabbè vi dirò tutto nel video anche perché di questa decisione c'è un motivo però vi spiegherò tutto lunedì vi mando un bacio grande e al prossimo video ciao sto piccolino oggi oggi compie nove mesi voglio fare gli auguri tutti a Daniel è vero dai poi nel prossimo video ve lo faccio vedere meglio oh mamma mia mi sta tirando tutti i capelli aiuto è vero che compie nove mesi c'è anche bufi vero oggi è comprimese di Daniel fate tutti gli auguri a Daniel vero 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 chica sì la vuoi brindere è vero è vero è vero oh i had a dream we were back to 17